Il coraggio di essere editor? C'è uno perché? Non dice un possibile? Non lo so, forse sarò spericolato, forse perché fin da bambino è stata la mia vita vivere in questo modo. Ma il piacere del profumo del libro, la carta, la lettura? Lo vivo da trent'anni perché sono ebraio da trent'anni e editore da trent'anni. Hai fatto un passo? Sì, esatto, mi sono un po' un'evoluzione, esatto. Quante fiere fai per promuoverlo? Per ora questa è la prima. Quanta intenzione di farti? Però tante. Adesso il libro se lo scrive, se lo pubblichi e poi lo deve anche promuovere andando in giro per farlo in giro, la fine funziona. Se la canta e se la suona. Se la canta e se la suona. Ma suoniriche edizioni? Allora, mi sono sempre chiesto cosa spinge un uomo a buttarsi in un mondo per le edizioni. Tant'altro è quando tutta l'umanità va solo online. Qual è la ragione? Penso la stupirità, perché siamo uomini di intelletto, siamo veramente stupiti da fare queste cose. Però è quasi una missione, questa qua è assolutamente da incentivare il più possibile. Mi piace scoprire cose nuove, mondi nuovi, perché comunque la lettura ti allichisce sempre. Gli autori li senti tu, personalmente? No, arrivano direttamente ad ogni caso sul sito. Quindi c'è una vita. Voi siete cercati dagli autori? Sì, ma immediatamente io dicevo una trentina di mezza settimana. Gli ultimi cinque gialli, di cui questo è l'ultimo lato, il quinto, legati da un filo che sono gli ispettori. Gli ispettori più la giornalista di Imperia. Gli ispettori da quest'uno di Imperia e più la giornalista di Imperia. Brevissimamente, radici lontane? Radici lontane parte veramente da molto lontano, dai Caraibi, dove due che sono riusciti a truffare il superenalotto si sono rifugiati. Però poi lì incominciano i guai, perché quando hai molti milioni e che non puoi piazzarli in modo legale, qualcuno che vive meglio di te nel mondo illegale ti viene accettato. Ma più che un giallo mi sembra, quello che mi dici sembra quasi una cosa di attualità. La domanda è, la fine del libro, si lavora tanto tanto di più o la gente viene solo per i libri? Non risponde? Non come. Come non e come? Lavoriamo, lavoriamo. Lavoriamo perché abbiamo i prodotti buoni. Però qui c'è il video festival. Allora, la concorrenza, no? Perché questa carta stampata l'hai visto solo per i libri. Esatto. E l'abbè fatta direi, funziona la Fiera di Polo. Anzi, ti ha ispirato? No. Parti forse. Diciamo che sono contento che avvengano delle cose di Imperia. Come ho sempre detto, io non sono geloso delle mie cose, sportiamo sempre tutto. Quindi più cose si fanno di Imperia, chiaramente meglio. La Fiera di Polo arriva anche prima. Parliamo di camminare, di rally di Fontagna e tu peserai 20-30, forse 40 kg a esagerare. Tu cammini. No. Tu sei Marco Olmo. Cioè, uno dei grandi. Noi abbiamo avuto a Fortuna che ci ha fatto le prefazioni. Non abbiamo il suo libro purtroppo, posso dirlo. Abbiamo chi batteva Marco Olmo. E questo Marco, se mi senti, non sa di avere qualche problema. In realtà però è Dario Viale. Sempre nella zona. Sempre con il detentore della salita del record di salita. Sono qui su un'ora e 48, la pianta del re, la pianta del re, la pianta del re, straordinaria. Mediamente uno come noi ci mette 5 ore. Claudio Porchia. Abbiamo qua uno dei maggiori esperti e non gastronomici dell'interno territorio, che per oggi è in mezzo ai fiori, alle piante. Fiori, ricette regate alle piante e la tavolazza. Alla razza. Il galateo dei fiori aveva un legame importante perché i disegni di questo libro di Barbara Ronchi sono stati 4 sui libresi di Vieno. Quindi c'è una sorta, un gossip piatto, un grande amore quest'estate fra Barbara Ronchi della Rocca e di Bereso. Per cui lei faceva questo libro sui fiori e di Bereso gli ha regalato questi suoi disegni. Mi dicono che questo grande amore nasce da una coda, la cipolla egiziana. Perché? Beh, no, la cipolla egiziana non è il 3Dugnò fra i due. Non è il 3Dugnò fra i due. Il Bereso aveva degli appunti in un tempo di questa cipolla che si consumava comunemente qui. Si era completamente persa e oggi un simbolo di una rinascita, ma se vediamo la cipolla egiziana rappresenta un po', la riscoperta di quel mondo contadino che era stato, come dire, abbandonato, distrutto, insomma. Parliamo di questa raccolta di restauratori. Perché i ristoranti della tavolozza? La tavolozza è un'idea dell'insieme dei colori. Nell'insieme dei colori trasportato nell'ambito della cartonomia è l'insieme dei colori. Poi uno dipinge usando questi colori e i dipinti sono i piatti.